È un'iniziativa che vede coinvolta dai livelli istituzionali perché il Comune di Benevento firmerà l'intesa, però è un'iniziativa regionale perché è uno dei tre centri data center nazionali, uno sarà a Torino, uno è a Roma e l'altro sarà qui in Campania a Benevento. Sono nuove tecnologie, alta formazione, nuovi posti di lavoro qualificati, attività che possono generare tanti altri posti di lavoro. Si fa tutta una serie di iniziative legate all'ICT, quindi alle nuove tecnologie, alla banda larga, all'utilizzo di tecnologie che servono poi ai cittadini per la sanità, per i trasporti, quindi è una grande occasione di mettere in rete un cervello, posti di lavoro e soprattutto posti di lavoro stabili. È un'enorme soddisfazione, la firma di oggi premia un territorio, premia un territorio che ha puntato su alcune politiche di sviluppo, che passano per delle politiche culturali, passano per delle politiche di riconoscimento unesco di un territorio e passano per le politiche di una qualità ambientale elevata, Benevento è la città della raccolta differenziata porta a porta al 65%. Evidentemente passano anche per una veloce risposta dell'ente locale, del Comune, rispetto a quelle che sono le prerogative di un imprenditore privato, quale può essere poste italiane. Tutto questo è stato premiato, ma io da sindaco di Benevento dico che è stata premiata una regione, perché è un insediamento talmente importante che porterà benefici all'intera regione campana. È un progetto importantissimo perché l'infrastruttura di poste italiane, che è la più moderna infrastruttura di servizi del paese, si arricchisce e naturalmente contribuisce allo sviluppo delle realtà imprenditoriali e professionali che ci sono attorno a Benevento e in maniera più estesa nella regione di Campania, offrendo grandissime capacità di calcolo, grandissime capacità di memoria e di servizi e quindi la possibilità, nel concetto moderno di cloud computing, di essere in continua interazione con ciascuna delle specificità imprenditoriali e professionali che facendo uso della rete dà valore al proprio prodotto.